Ciao a tutti e benvenuti da Tina e Pippa! Oggi siamo qui per recensirvi i braccialetti degli Shockey Bands Matt, non chiamateli mattoncini. Praticamente sono questi braccialetti che vedete qui, formati appunto da mattoncini. E per questo appunto si chiamano Shockey Bands Matt. Allora, iniziamo a vedere la bustina. Ok, questa qui che è più messa bene, ecco. Allora, naturalmente è della officina di Cola, poi consigliato dei 6 anni in su. Poi Shockey Bands Matt, è la scritta Matt, è scritta appunto con il tema dei mattoncini. Non chiamateli mattoncini. E poi qua fa vedere due braccialetti. Poi c'è scritto che cosa contiene all'interno, ovvero 9 mattoncini braccialetto in vari colori, più un mini book. Ok. Poi, qua c'è una ragazzina con questo braccialetto. Shockey Bands Matt, sempre la solita cosa. Poi qua sotto, componi e scomponi a tuoi piaceri i tuoi Shockey Bands Matt. Puoi creare qualsiasi combinazione di colori o trasformarli in varie forme. Ok. Poi qua ci dice di consultare il sito ShockeyBands.it. E il prezzo di questa bustina è di 1 euro o 1,50 euro. Comunque costa veramente poco. E vai Pippo inizia ad aprire. E inoltre volevamo dire che queste bustine, questi braccialetti matt, ce le ha consigliati uno di voi, ovvero Ciccio Rosa. Quindi un grosso bacio a te. E poi... Pippo manda un grosso bacio. Pippo? Pippo? Vai. Bravo. Inoltre volevamo dedicare questo video a un nostro grandissimo iscritto che avevamo già ringraziato per una sua dedica un po' di tempo fa. E sarebbe Rock Wayne Francesco Locicero. Lui ci ha dedicato un video di Spider-Man. Noi l'abbiamo visto, è fantastico. Andatelo a vedere anche voi. Ha un canale bellissimo dove appunto fa varie recensioni o comunque ad esempio ha scartato anche i suoi regali di Natale con la ragazza. Veramente fa dei video straordinari. Quindi iscrivetevi tutti, tutti. E noi appunto l'abbiamo già fatto, ci piace un casino e lo seguiamo sempre. Quindi ti mandiamo ancora un grosso bacio e ti ringraziamo tantissimo. Ok. Pippo ha aperto. Guardiamo il nostro booklet. Perfetto. Voglio cogiungere i mattoncini. Sì. Allora, ecco qui il booklet, anche abbastanza grande, fatto bene. Allora, Shaky Benz Matte. Non chiamateli mattoncini come sempre. Mixa i colori, crea il tuo stile e mostra tutta la tua personalità. Incastra uno dopo l'altro i tuoi Shaky Benz Matte, come illustrato in figura, componendo forme e combinazioni di colore, secondo il tuo stile. Quindi si possono proprio mettere come si vogliono. Poi, cosa ti serve? Appunto qua spiega un po' come si fa. Fa vedere dei braccialetti matte messi al braccio, bellissimi. Ah, poi fa vedere anche il significato. Bianco, giallo e blu, semplice, ottimista e affidabile, ad esempio. Se volete fare questo tipo di braccialetto con questi colori. Poi, ecco qua, fa vedere i colori. Un colore per ogni personalità. Ah, bellissimo! Quindi ad ogni colore corrisponde un significato. Ad esempio, verde per sempre, rosso passionale, rosa romantico, nero misterioso, giallo ottimista, lilla sofisticato, arancione energico, blu affidabile, bianco semplice e azzurro creativo. Wow, sono fantastici, bellissimi! Allora, quindi, ecco qui i nostri 9 mattoncini, sì, dovrebbero essere 9, 3, 6, 9, ok. Tutti di vari colori. Sono veramente piccolissimi, così, ma veramente carinissimi. Ma io mi sto già facendo il braccialetto. Sì, quindi adesso direi di fare il braccialetto e ve lo facciamo vedere subito. Allora, abbiamo fatto il nostro braccialetto ed è veramente fantastico, ragazzi, comperate assolutamente questi Shoky Benz Matt. Allora, praticamente si incastrano, adesso ne tolgo uno. Si incastrano, hanno questi due buchini e poi si incastrano normalmente facendo una catena. Aspettate che adesso... Ok. E abbiamo fatto tutto così, abbiamo fatto fucsia, che sarebbe l'attaccatura, ecco. Abbiamo inteso così. E poi giallo, arancione, blu, giallo, arancione, blu, giallo, arancione e poi fucsia. Vai, Pippo, mettitelo. Bellissimo. Ok, fallo vedere. No, ragazzi, è fantastico. No, 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 qui, qui, aspetta. Ah, te lo vuoi più in su? Perché se non mi cade. Ah, no, è fantastico veramente. Allora, quindi abbiamo trovato il giallo, quindi ottimista, l'arancione energico, il blu affidabile e il lilla sofisticato. Wow. Ma mi aiuti a togliere? Quindi adesso lo togliamo e Pippo apri l'altra bustina. Perché non la devo salvare per forza. Beh. Oh, non so dove vuoi aprile. Aprile dove vuoi. Allora, speriamo di trovare altri colori, naturalmente, a parte il blu, il giallo, l'arancione e il lilla. Allora, di booklet abbiamo trovato questo qui. Quindi ci sono quattro tipi di booklet. Infatti qua c'è scritto uno di quattro, che è rosa, e poi abbiamo trovato il due di quattro, che è giallo. Quindi anche i booklet cambiano. Fantastico. Allora, questi qui sono i nostri mattoncini, quindi altri colori, il rosso è ben trovato ad esempio in più, c'è diverso dagli altri, e il grigio. Ok, adesso montiamo il braccialetto. Ok, ragazzi, ecco qui il nostro secondo braccialetto, è anche lui fantastico, vero Pippo? Beh, beh, guarda, guarda tu, io faccio quella bianca. Ok, allora, quindi in più abbiamo trovato il rosso, sono molto curiosa di sapere cos'è. Significa passionale, e poi il grigio, che significa... no, è il bianco. Ah, ok, è considerato come bianco, sì, è un bianco grigio, ecco, semplice. Vai, vai, guarda, guarda, gli attacchiamo? Pippo li vuole attaccare, sì, ma così si fa un braccialetto gigante. Aspettate. Sì, il polso di un gigante, ecco. Vai, vai, guardate. È fantastico. Vai dentro il cerchio. È vero, bravo Pippo, si può utilizzare anche come collana. Volevo attaccare. Ecco, sì, quella lì magari è un pochino... no, per lui è... no, no, non ti attaccare adesso. Comunque è vero, magari se, che ne so, prendete due pacchetti dei nostri fantastici matt, potete fare anche come unirli e fare come una collana. Bravo Pippo. Volevo attaccare. Adesso te lo attacco, eh. Sembra un cane. Cosa? Sembra un cane. Sì, sembra un cane, perché alla fine sembra più un collare così piccolino, formato solo da due bracciali. Aiuto! Guardate, aiuto! Mi sto affocando. Ecco qui i nostri due shock events matt. Sono veramente fantastici, ve li stra, stra, stra consigliamo. Quindi, inoltre, oggi volevamo salutare alcuni di voi. Veramente siete tantissimi che ci hanno chiesto di salutarli. Quindi direi subito di iniziare. Allora, vogliamo salutare. Cr1, S7, 1, A, N, Y, T. Giada Super... Cosa stai facendo, Fili? Giada Super Coway Italia. Wiki, che ha fatto il compleanno l'8 luglio. Quindi tantissimi auguri. Fili, dai, auguri. Tanti auguri. Bravo Pippa, non sparire. Ok. Poi, Xenia Basile. Soxer11. Sabrina Contino. Gabriele Testa Grossa. Meri T, che si chiama Maria Teresa Pagano. Poi, Domenico Matarese. Giacomo, che sarebbe il figlio di Maria Grazie Lopresti. TC Channel, che ha un canale, quindi andatelo a vedere. Noi siamo già iscritti. Poi, Noemi Denrico, Leonardo Sagone, Sara Brian, Kevin Manguerra, Monica Ungaro, Agim Duraku, Rebecca Fabri, Luisa Verdi, Andrea Panatta, Emenuri Kawey, Anna Rita Ciacioppo, Teresa Cima, Aurostar Viamo Mates, Francesco, Samuele, Federica Grieco, Rabi Game Show, Rabi Game Show, Lara Rosi, Rita Carucci, Rock Wayne, Francesco Locicero, Melissa Marangoni, Natale Russo, Jessica Migliano, Invisible Forever, Jenny Gallignani, Barbara, Giuseppe Provenzano, Fico Ruffa, Isan Oukas, Mattia 03, Ramon, Omino Dell'Acqua, Pazzo Come Pochi Luca, Domeni 03, che si chiama Domenico, Cristina, Bianca e Rex 2.0. Quindi, un saluto a tutti voi, grazie ancora che ci avete chiesto di salutarvi. Intanto non so cosa faceva Pippo mentre leggevo, mentre vi salutavo. Bravo Pippo, ecco, ho distrutto la bustina. Quindi, se vi è piaciuto questo video, mettete un bel pollice in su. Se siete non iscriviti al nostro canale, qui ci vediamo tanti altri video, condividete questo video con i vostri amici, lasciateci un bel commento con le forbici. Sì, bravissimo Pippo. E quindi, saluti da Tina e... Pippa e vi riuscite dal prossimo video. Ciao!